Ambrogio Lorenzetti. Fino al 21 gennaio Siena ospita le opere provenienti dal Louvre, National Gallery, Galleria degli Uffizi, Musei Vaticani e Musei Senesi di uno dei più grandi pittori europei del XIV secolo, il maestro che ha dipinto l'allegoria del buon governo. L'hotel Chiusarelli ti ha riservato per questa occasione un'offerta speciale. La tariffa di 51 euro a persona include il pernottamento in camera doppia e la cena al ristorante Gli Orti di San Domenico, alla scoperta dei sapori della Toscana. In più, ricca colazione a buffet la mattina. Il biglietto della mostra ha un costo di 9 euro a persona e ti permette di avere sconti ed agevolazioni per altri spettacoli in scena a Siena. Per maggiori informazioni visita la pagina segnalata nel post. Vieni a conoscere Ambrogio Lorenzetti e i suoi capolavori.